Ambiente bene comune. Questa è la denominazione del nuovo bando aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in scadenza il 12 aprile. Un titolo in linea con lo spirito di Pianeta Terra Festival, che spiega già da solo con efficacia il principio ispiratore dell'iniziativa e i criteri con cui verranno selezionate le richieste di contributo. Ci sono risorse per ben 2 milioni di euro, con i quali la Fondazione intende sostenere progetti di tutela, di ripristino, valorizzazione della biodiversità e del capitale naturale per affrontare le sfide di oggi, il cambiamento climatico, il rischio idrico, l'inquinamento acustico ambientale, il dissesto idrogeologico e la gestione del rischio di calamità ambientali, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e la strategia per la biodiversità dell'Unione Europea.